Era molto amico della senatore Andriotti, come lo ricorda? Affettuosamente, tanti anni assieme, il collegio elettorale a lui più caro era la ciociaria, lui pigliava i voti di preferenza in maniera plateale, in ciociaria, curava il collegio, era un parlamentare serio, lo curava tutto l'anno, a lui deve molto la ciociaria, la provincia di Latina, subito dopo la guerra, con lui che avviò la ricostruzione in termini di concretezza e in avvenire se lei pensa la viabilità a Pontina, la strada per Latina Vittoria, lui a realizzarla, tutto questo. Un'amicizia lunghissima, un soddizio lunghissimo al vostro. Beh, siamo vecchi tutti e due, io sono sopravvissuto ancora.